Ho bisogno di dati Ho bisogno di dati Ho bisogno di dati Caccia torpediniere nemico individuato Avvistato incrociatore nemico Ricognitore in volo Avvistato caccia torpediniere nemico Incrociatore nemico individuato Caccia torpediniere nemico individuato Caccia torpediniere nemico individuato Caccia torpediniere nemico individuato Ricognitore di ritorno Caccia torpediniere nemico individuato Allarme incendio Allarme incendio Caccia torpediniere nemico individuato 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 Grazie a tutti. 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 Ufficiali pronti. Buona fortuna. Efecto espulpa. Grazie a tutti. 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 Ricognitori in volo. Corazzo. Corazzata nemica individuata. Grazie a tutti. Ricognitori in volo. 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 Grazie a tutti. 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 Tutti ai posti di combattimento. Grazie a tutti. Avvistato incrociatore nemico. Buona fortuna a tutti. Ti devo un favore. Posizionare una cortina fumogena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nostra squadra è in vantaggio. La nostra vittoria è vicina. Grazie a tutti. 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 La nostra squadra è in vantaggio. Abbiamo distrutto un incrociatore nemico. a tutti. Abbiamo distrutto un incrociatore nemico. Abbiamo distrutto un incrociatore nemico. Abbiamo distrutto un incrociatore nemico. Abbiamo distrutto uno. Abbiamo distrutto un incrociatore. Ci sono i nostri���oc basi. Tinami, ragazzi. La nostra ammessa. La nostra società è stata stata in vantaggio. Proprietà. Abbiamo distrutto un incrociatore senza l'ecchia. i miei storie, i miei siti official, i miei facebook page newtings, per la vostra informazione siamo arrivati a circa 2,000 follower, quindi spero. Per la vostra informazione, voglio ringraziare che in Europa ZOOM, potete trovare questi articoli in mio sito web e shop in Hoplix, guardate il link in la mia facebook page. And I'm looking also for a new shop in a philippic country for the same things, I hope that there will be a lot, so thank you very much for watching, see you soon next time, bye-bye!